Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi farò vedere come migliorare l'audio dei vostri video. Come? Con dei semplici step. Partiamo dal step numero 1. Dovremmo semplicemente non utilizzare l'audio del microfono della vostra fotocamera, perché non importa quanto costi la vostra fotocamera, avrà sempre e comunque un microfono scadente, perché le case produttrici montano dei microfoni di bassa qualità, perché solitamente nel videomaking più o meno, si utilizzano microfoni esterni di qualità alta o al massimo si utilizzano dei microfoni sia esterni attaccati alla camera, oppure nel mio caso, come faccio sempre io, utilizzo dei microfoni esterni e sincronizzo l'audio in post, ma questo lo vedremo dopo. Quindi non utilizzare mai il microfono della videocamera o fotocamera. Bene, il secondo step consiste nel scegliere il tipo di microfono. Abbiamo varie tipologie di microfoni. Possiamo scegliere tra un vastissimo catalogo, da prezzi bassissimi a prezzi un po' più alti. Partiamo ovviamente dalle scelte più economiche. Quindi, per spendere poco, cosa scegliamo? Semplice! Scegliamo un microfono esterno con jack da attaccare alla videocamera. Se la videocamera non ha un attacco jack, allora dovremo per forza di cosa optare per un registratore esterno. Questo registratore esterno può essere un Tascam di R05, come il mio, oppure uno Zoom H1. Sono i registratori di qualità alta che più o meno costano poco. Salendo di prezzo, possiamo abbinare al registratore esterno anche un microfono a clip lavaliere di quelli che vengono attaccati sui vestiti, come quello di cui ho fatto l'unboxing nello scorso video. Questa soluzione ci permette di muoverci in completa libertà nella scena e anche a distanza veramente elevate dalla videocamera. Possiamo registrare l'audio ad una qualità abbastanza buona, però questo dipende ovviamente dalla clip che scegliete da abbinare al vostro registratore. Salendo di budget, ancora, possiamo optare per un microfono super cardioide oppure cardioide. Però attenzione, perché il microfono cardioide cattura un'ampia zona di suono di fronte al microfono. Quindi dovremo fare attenzione a cosa c'è in sottofondo. Ne parleremo nel prossimo step. La qualità di questi microfoni a diaframma largo è sicuramente molto elevata, perché sono veramente sensibili. Cioè, li consiglio io in scene di ripresa, stile la mia. Però badate bene, perché avete bisogno di un registratore esterno con attacco XLR o Canon, oppure di una scheda audio esterna, tipo la Focusrite, abbinata ovviamente ad un PC, perché non potete registrare con quei microfoni attaccando semplicemente il jack, perché se potete sì, la qualità sarà veramente scadente e non ne vale assolutamente la pena. Terzo step, diciamo che è il passaggio più semplice, credo, e consiste nell'eliminare i rumori di fondo. Ovviamente senza nessuna magia, dovete semplicemente spegnere dispositivi che generano rumore. Quali ventole, PC, stufe, nel caso avessero una ventola. Climatizzatori, nel caso pompano aria. E questo era lo step più semplice, ma è anche quello che vi aiuterà molto a migliorare la qualità audio, perché avendo meno rumore di fondo, riuscirete a captare un audio più pulito. Quarto step consiste nel nascondere il microfono. E sì, voi vedete un microfono in questa scena? No, perché il microfono è qui sopra. È proprio sopra di me. Però nella scena non viene inquadrato. E io comunque riesco a tenere il microfono più vicino possibile, perché il trucchetto è avere il microfono più vicino possibile alla fonte audio, però tenerlo comunque nascosto dalla scena. A meno che non avete ovviamente un microfono a clip, e lì c'è poco da fare. Lo potete mettere sì nascosto, ma andrete a perdere le frequenze alte, perché viene attutito il suono. Quindi, nascondere il microfono, ma tenerlo più vicino alla fonte audio possibile. Il quinto step consiste nel migliorare l'audio in post-produzione. Questo è un step abbastanza semplice, perché vi farò vedere adesso come si fa, ma dovete essere più o meno minuziosi, perché in base al microfono dovrete utilizzare i vostri settaggi non c'è un settaggio universale per tutti i microfoni, o per tutte le situazioni. E quindi vi farò un esempio, nel mio caso, come faccio io. Utilizzo il Tascam DR05 e andrò a post-produire l'audio con un software gratuito chiamato Audacity, o Audacity. Anzi, direi Audacity, perché l'accento mi piace di più. Ma va bene, andiamo a vedere come migliorare appunto l'audio in post-produzione. Via! Come prima cosa, apriamo Audacity e carichiamo il nostro file. Ragazzi, questo è l'audio del Tascam DR05 e in questo esempio vi farò vedere come post-produzione questo tipo di audio. Quando registrate, ricordatevi magari di tenere un picco massimo di meno 12 dB, cosicché potrete lavorarci. Quindi, applichiamo una normalizzazione a meno 2 dB e ascoltiamo la differenza dopo averla applicata. Ragazzi, questo è l'audio del Tascam DR05. Il prossimo passaggio consiste nell'applicare la compressione. Questo alzerà il volume delle parti basse e abbasserà il volume delle parti alte. In base al threshold e al ratio che voi avete impostato, lui livellerà in maniera omogenea l'audio e darà quell'effetto studio. Ragazzi, questo è l'audio del Tascam DR05 e in questo esempio... Fatto questo, applicheremo un po' di equalizzazione all'audio. Io sto utilizzando questo preset che ho fatto da me. Voi potete copiarne i parametri o modificarli in base alle vostre preferenze. Ascoltiamo l'esempio dopo averla applicata. Ragazzi, questo è l'audio del Tascam DR05 e in questo esempio vi farò vedere come post-produzione questo tipo di audio. Come avete sentito, alla fine dell'audio c'era un leggero fluscio, il rumore di fondo. Per eliminarlo, selezioniamo qualche secondo di puro silenzio col fluscio, andiamo su Noise Reduction e creiamo un profilo. Dopo andiamo di nuovo su Noise Reduction e magari giochiamo con i parametri in base alle preferenze e applichiamo l'effetto. Ragazzi, questo è l'audio del Tascam DR05. Bene, ultimo step che direi numero 6. L'ultimo step consiste nel essere poveri e non potersi permettere nessuno dei microfoni che vi ho elencato e quindi dover per forza di cose utilizzare l'audio della fotocamera. Ma c'è sempre una soluzione a tutto. Possiamo ovviamente utilizzare l'audio della videocamera, se non possiamo fare altrimenti, e post-produrre l'audio. Semplice. È un consiglio banalissimo, perché voi potete registrare l'audio e andarlo poi a post-produrre magari nel software di video editing, perché ovviamente la traccia audio sarà collegata a quella video, a meno che non fate una conversione e separate l'audio dal video e poi l'andate a post-produrre in Audacity, come ho fatto nello step precedente. In caso non voleste sbattervi in questo passaggio, allora direttamente post-producete l'audio sul vostro software di video editing, che io ovviamente consiglio Adobe Premiere Pro oppure Sony Vegas. Ma non sono gratuiti, però... Va bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile come sempre e spero di sì, veramente tanto, perché cerco di portare roba di qualità nella maniera più semplice possibile per voi utenti. Quindi se vi è piaciuto lasciatemi pure un like, perché mi supporta tantissimo, ma veramente tantissimo, io vi ringrazio per i like, sì. Commentate se avete dubbi o se volete avere qualche informazione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Ciao!